Venerdì 6 dicembre puntuali alle 7.30. Buongiorno e ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di 696 TV. Insieme andiamo a leggere le notizie che potete trovare nei quotidiani quest'oggi. Ne dico la prima della parte finale dedicata al web con ampio spazio al nostro portale 8pagine.it. Ma iniziamo come di consueto dai quotidiani cartacei. Ci fa intravedere le prime pagine dalla regia Aldo Fenizia. E allora partiamo come d'abitudine dalla prima del Roma il quotidiano di Napoli. Lo storico quotidiano di Napoli. In apertura per quanto riguarda il Roma due temi. Innanzitutto le regionali, centrodestra, giorni decisive per la scelta. Stretta su Caldoro per sfidare De Luca. E poi i verbali. Siamo sui temi della cronaca. Invece con Carlo Lorusso che incastra il fratello. Lui ha sparato. Ecco i miei omicidi. L'extras di Miano ho ucciso Tortora e Aliberti. E ancora in taglio alto. I temi sono diversi anche in questo caso. Lo sport. Ancelotti striglia il Napoli. Ma Coulibaly si infortuna. Problema alla spalla. A Udine il modulo non cambia. E poi l'avvertenza diventa racket. Pistola in faccia all'avvocato. Arrestati Antonio Arena e Francesco Fanelli. Di spalla. I richiami dalle varie zone dell'Interland napoletano. E anche dalle aree interne. Innanzitutto la mala di pianura. Delitto balestrieri. Nessuno scontro al clan Marfella. Quattro ergastoli. Poi blizza a forcella. Revolvere d'eroina. Nascosti nel basso. Pasquale Ferraiolo finisce in manette. Proseguiamo con Casal Nuovo. Ad escosto i social. Una dodicenne. Scambi di video e fotoporno. Arrestato un quarantunenne. Ed ancora nel comune di Nola. Sequestrati in Puglia. Capi di abbigliamento destinati ai negozi dell'Interland. Due denunce nella prima del Roma. Spazio anche alla crisi rifiuti. Comune e regione accusano il governo. E ancora andiamo avanti con la notizia che campeggia in taglio basso. Il caso. Oggi il Via. La task force agenzie di viaggio sul piede di guerra. Pronti a far causa. Piano traffico. Scontro sui bus turistici. Lettera dal palazzo. Politici e magistrati. Adesso finitela. A firma di Ottorino-Gurgo. A pagina 39. Dove troviamo anche l'opinione di Giovanni Lepre. La lotta all'inquinamento. Fatta contro le imprese. Approfondiremo questi ed altri temi. Anche nel corso della nostra rassegna stampa. Successivamente. Andiamo però all'interno del Roma. Con pagina 2 e pagina 3. E allora in primo piano. Camorra. Il pentito. Fa luce su due vecchi omicidi. Coinvolti anche altri sicari. Terremoto Carlo Lorusso. Uccisi Tortora e Aliberti. L'ex ras di Miano accusa pure il fratello. Mario ha fatto fuoco. E poi in taglio basso. Tonino doveva essere tolto di mezzo. Il maggiore dei capitoni rivela. Scognamiglio e Palumbo avrebbero preso il comando. Da pagina 2 a pagina 3. Centro-destra. Si accelera per la candidatura di Caldoro. Elezioni regionali. Forza Italia. Lega e Fratelli d'Italia. Cercano il prossimo governatore. Ritorna la suggestione Carfagna. Settimana prossima. La scelta definitiva. E poi di spalla. Tommassetti. Responsabile del programma. La Lega organizza il territorio. Scelti i commissari provinciali. In taglio centrale a pagina 3 del Roma PD. Movimento 5 Stelle. A sinistra c'è chi preme per l'accordo. Gli scontri nazionali lo allontanano. Ma si cerca di tessere la difficile tela. Sui nomi di Costa e Spadafore. Poi Italia Mediterranea. Scende in campo. Iossa, Martelli e Signorile. Le nostre liste presenti alle regionali. Abbiamo visto alcune pagine del Roma. Ma continuiamo. La nostra rassegna stampa. Spostandoci sulla prima della Repubblica. Nella sua edizione nazionale. E allora. In apertura. Di Maio frena. Il governo respira. Parlamentari 5 Stelle. Preparano documento contro il leader. Lui abbassa i toni su prescrizione e salva stati. Ma sulla manovra è ancora scontro. Tagliate le tasse su auto e plastica. Conte. Ora a trovare altre risorse. Ilva. Il contropiano di Patuanelli. I posti salvi con nuove tecnologie e aziende di Stato. Il Quirinale. Mattarella. Grazie a Bossi per le offese a Napolitano. E poi il leghista. Borghi. L'uscita dall'euro. Oggi non è più un tabù. C'è anche spazio nella prima della Repubblica edizione nazionale. Per il caso. Attento. Mattiale Sardine hanno uno stile. E poi l'editoriale di Ezio Mauro. Selanato perde il profilo dell'Occidente. Ancora nella prima della Repubblica edizione nazionale. Un milione in strada contro la riforma delle pensioni di Macron. Lo sciopero blocca la Francia. Parigi brucia. Vedete in questa fotografia uno scatto davvero eloquente per quanto riguarda le proteste dei manifestanti. Maschera contro la riforma delle pensioni di Macron. E poi in taglio basso il rapper in lacrime. Devo stare sotto controllo. La confessione di Fedez. Rischio la sclerosi multipla. Nella fotografia Fedez 30 anni con la moglie Chiara Ferragni. E andiamo all'interno della Repubblica edizione nazionale. Speculare di pagina 2 e 3. In primo piano la resa dei conti la definisce così la Repubblica. Giustizia. Crisi rinviata. Trattativa tra 5 Stelle e PD. Di maio. Ma da gennaio scatta la nuova prescrizione. I DEM porteranno a conto la loro proposta per ridurre i tempi dei processi. Buona fede. Intesa possibile. Nodo intercettazioni. E poi la riforma sì del Consiglio dei Ministri al nuovo processo civile. Mentre in taglio basso l'intervista al presidente dell'antimafia Morra. Mediare con i DEM è difficile. Ma non dobbiamo arrenderci alcuni estratti di questa intervista. Antimafia Nicola Morra 56 anni senatore del Movimento 5 Stelle. L'obiettivo è impedire la vergogna della prescrizione. Come ci si arrivi è secondario. E il dialogo è doveroso. E poi pagina 3. Sfiducia al capo politico. Il documento dei grillini. Contrari alla linea di maio. L'ultima provocazione. L'annutti candidato a presiedere la commissione banche. Come sempre c'è la lettura pungente del vignettista della Repubblica LK. Improvviso e misterioso cambio di linea di maio. Retroscena Camera dei Deputati. E ovviamente si commentano da sole queste lettere sparse, queste frasi, queste parole. Firmato sappiamo dove abiti. E quindi l'ironia anche di LK per commentare questa vicenda. Mentre c'è anche questo caso singolare. Salvini, basta Nutella. Il leader della Lega ha detto addio alla Nutella. Ho scoperto che usano nocciole turchi. E io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani. Ha detto a Ravenna dopo un comizio. Andiamo avanti con pagina 4 della Repubblica Edizione Nazionale. Manovra e scontro sulle tasse. Il tesoro cerca mezzo miliardo. Il caso Borghi insiste. Uscire dall'euro non è un tabù. Salvini lo stoppa. E ancora, tornando sul tema della manovra e dello scontro sulle tasse. Plastic e Sugar Tax nel mirino dei Renziani. Il vertice con Conte non cancella divisioni tra i partiti. E poi il retroscena. Gualtieri evita strappi sul MES. L'SMS di Mimaio. Grazie. Ci sono i vari punti. Risultati raggiunti dal tesoro che hanno riguardato il debito, le banche e i tempi. E ovviamente sono fruibili a pagina 4 della Repubblica Edizione Nazionale. Noi però continuiamo nella nostra rassegna stampa spostandoci sulla prima della Repubblica Edizione Napoli. Dove in apertura c'è la campagna di Repubblica. Con l'intervista sulle scuole che in questo virgolettato vengono definite come insicure. Ecco il piano. E ai docenti dico non siete soli. A parlare il ministro Fioramonti. Un miliardo per le opere indegno di un paese civile. Che gli istituti siano così degradati. E poi di spalla la crisi. Rifiuti, camion rotti e più cumuli. Ed ancora da oggi 400 opere in mostra. Calatrava, Lucia, Capodimonte ispirato da Napoli e Costiera. Vediamo in taglio centrale queste splendide opere d'arte. E poi dibattito al suo rursolo. Le regioni non sono piccole e patrie. E poi la polemica. Fondi europei, il tesoro inutilizzato. Andiamo ancora in taglio basso. L'anniversario, i primi 60 anni del San Paolo. Ma il futuro è ancora qui. E poi il film di Marco D'Amore. L'immortale espugna il Metropolitan. Andiamo all'interno. Dopo aver rivisto nella sua interezza. La prima della Repubblica edizione Napoli. Della Repubblica edizione Napoli per l'appunto. Con pagina 4. Cronaca, concorsone. Il Formez a De Luca. Basta accuse. Siamo nei tempi. In una lunga nota. La replica dell'istituto di formazione. Le polemiche sollevate dal governatore sui ritardi. Per la pubblicazione dei risultati della categoria C. Sono stati necessari controlli ulteriori sugli elenchi. E in taglio basso. La polemica dei magistris sul governatore. È allergico a me. Ma il governatore De Luca. Ha parlato. È tornato a parlare anche della terra dei fuochi. E allora andiamo a vedere insieme. Il servizio di Giovanni Battista Lanzilli. Mandare gli squadristi in galera. Per affermare la legalità. Vincenzo De Luca sottolinea gli sforzi di questi quattro anni al governo della regione in materia di rifiuti e non solo. Dopo la denuncia in questura per il lancio di sacchetti di rifiuti ad Aversa all'Agenzia Dire, il presidente della Campania parla senza mezzi termini di aggressioni camorristiche. Abbiamo alle spalle quattro anni di aggressioni da parte di camorristi, di squadristi, di delinquenti di vario tipo. Cioè di tutti quelli che contrastano l'operazione di legalizzazione e di ripulitura della regione campana. Di ripulitura della terra dei fuochi. Quello che non è tollerabile un minuto di più è che non ci sia lo Stato. Ma ho anche detto che è una vergogna per l'Italia avere a sedi di squadristi davanti alle sedi istituzionali della regione a intimidire dipendenti e dirigenti della nostra istituzione. E sempre sul tema rifiuti, poco prima a Salerno il governatore aveva accusato di inerzia il governo e in particolare il ministro dell'ambiente Sergio Costa. Io ricordo che il precedente governo ha fatto una parata propagandistica esattamente un anno fa a Caserta per affrontare il tema della terra dei fuochi. Dopo un anno non hanno fatto niente. Anzi, per quello che riguarda il ministro dell'ambiente è stata fatta una cosa negativa. Hanno tagliato la regione campania a 30 milioni di euro che venivano utilizzati per il termo realizzatore di Acer. Rieccoci in studio la prima del mattino edizione nazionale. In apertura, manovra scontro nel governo, sfida di Renzi sulla plastic tax. Ancora tasse giù, caccia a 500 milioni di euro, Conte e Gualtieri trova le risorse, assalto di Italia Viva. Alto là del PD, Matteo non può averla vinta su tutto. E poi il nodo prescrizione, giustizia, la tregua non risolve le ambiguità, a firma di Carlo Nordio. In taglio alto, la mostra Calatrava, omaggio alle luci di Napoli. A Capodimonte guarda al futuro, insigne dalla carica, la scossa del capitano a Udine come guerrieri per uscire dal tunnel. Il personaggio da Miami Vice a cena con delitto, la metamorfosi di Don Johnson. Di spalla, l'ambiente, il patto di Napoli per ripulire il Mediterraneo da veleni e rifiuti. E in taglio centrale, la battaglia dell'acciaio, Ilva, il piano del governo, CIG e ingresso dello Stato. E poi l'intervista Verini del PD sui processi ok all'accordo col Movimento 5 Stelle, ma servono tempi certi. E c'è anche questa storia, due record del mondo nelle gare di nuoto, l'orgoglio di Angela, campionessa disabile. Non basta il cuore, gli sponsor ci ignorano. E poi violenza sulle donne, record di denunce, sorpassate le rapine. Napoli a novembre, 438 nuovi procedimenti, superati anche i reati di droga e di camorra. E poi la rivelazione, le lacrime di Fedez sono a rischio sclerosi multipla. Mentre in taglio basso, le interviste del mattino, Spadafora, Corri razzisti negli stadi. Il buon esempio venga dai genitori. Questa è la prima del mattino edizione nazionale, abbiamo letto i titoli insieme e andiamo avanti con la prima del mattino edizione Napoli. Dove in apertura c'è il Virgiliano, il parco negato, chiuso da oltre un mese. Valerio Esca a pagina 22 racconta i dettagli in un'area denominata la città senza verde. E poi in taglio alto la seconda guerra nel golfo spunta il relitto di una nave scomparsa. La nomina Weir, un'australiana in pole per il madre, dispalla l'intervista PD senza alleati. Siamo destinati alla sconfitta del basso De Caro. De Luca serve il sì anche di Movimento 5 Stelle. Della sinistra ora un vertice. Poi l'emergenza, scontro sui rifiuti ma gli impianti restano fantasmi. Il Comune dà la colpa al Governo e alla Regione. De Luca accusa il Ministero, tagliati i fondi. Il commento di Antonio Pascale e di Magistris, il Governatore e lo scarica a Barile, sul caos ancora di spalla. Sanità firma in Consiglio dei Ministri, campagna non più commissariata. E per concludere, in taglio basso nella prima del mattino edizione Napoli, il welfare disabili, il pasticcio dei sussidi a Napoli, niente graduatoria. Il piano traffico da oggi, la maxi zona traffico limitato, bus turistici, giallo parcheggi. Questa era la prima del mattino edizione Napoli. E noi ci spostiamo adesso sull'edizione Avellino, continuando la nostra navigazione provincia per provincia. E allora, in apertura, Circelli compra l'Avellino, ma non si sa con chi a Napoli la firma. Alle 9.30 appuntamento da notaio, ma è mistero sui soci. Dovrebbero essere, usiamo anche noi il condizionale, un irpino e un altro socio. Ma non Izzo, con cui ha costituito Circelli e di Matteo poi fuoriuscito la IDC. Intanto la squadra, Capuano le prese con il Rebus difesa. Seliac potrebbe giocare da centrale. Ariano, Franza, strada in salita. A gamba corta, niente partiti. I richiami dalle province irpine. Monteforte, Anna, una sedia a rotelle sull'asfalto sconnesso. E poi la politica. Lega, Molteni, manda in Irpini il vicepresidente dell'antimafia. In taglio centrale, allarme, razzismo. L'episodio in via tedesco. Due controllori dell'Aira hanno segnalato il caso all'azienda. Bus negato al ragazzo nero. Il 21enne, la fermata, ha mostrato il billet dell'autista, che però non lo ha fatto salire. Il monito, Cantelmo avverte, il fenomeno droga non va sottovalutato. Siamo dunque su altri temi. Mentre l'intervista di Colucci a pagina 23 a Terrazzi, che si insedierà lunedì in via Palatucci, il nuovo questore è continuità con botte di spalla. Ancora il comune, ultima chiamata per il bilancio ACS. L'azienda rischia il fallimento, mentre in taglio basso l'intitolazione della sala in provincia. Un anno senza foglia, uomo delle istituzioni. La prima del mattino edizione Avellino. Noi ci trasferiamo adesso sull'edizione Benevento, continuando nella nostra rassegna stampa. In apertura, Natale, show di magie. Camera di commercio, eventi presentati con gli architetti. Mastella, attesi fondi dalla regione. Scene da favola sul corso, con luci, proiezioni e panorami innevati. E poi, verso le regionali di Girolamo, l'invito di Salvini e Meloni torna in politica. In taglio alto, la festività, San Giorgio, armonie tra luci e note di speranza. I sapori, Invictus e Fritfood. Alle forche, Caudine. Ancora in taglio centrale, il calcio al vigorito, l'anticipo della capolista. Benevento avanti tutta e assalto al Trapani. E poi, Bucciano, lo sfogo dopo la razzia nel pub. Furti e violenza, ora sono stanco, cedo il mio bar. Il titolare era finito di notte nel mirino dei ladri. Decisione sofferta, ma la priorità è la famiglia. Telese Terme, botti, vendita nel locale. Scatta la denuncia dopo SOS dei residenti. In taglio basso, il progetto Acqua per la vita, premi ai progetti green. E poi l'iniziativa, ecco come evitare le truffe, la lezione dell'arma agli anziani. Ma ovviamente trova ampio spazio nella prima del mattino edizione Benevento, la mobilitazione con il sit-in con i sindacati per la maestra Picchiata. La città si ribella, docenti, politici e genitori in piazza. Siamo tutti l'INA, la scuola va difesa. L'intervento, la scuola, l'intervento, la socialità è in crisi a firma di Francesco Vespasiano. E noi, per approfondire questo tema e questa vicenda, andiamo a vederci il servizio di Alessandro Fallarin. Benevento si mobilita per la maestra Lina, brutalmente picchiata dalla madre di una sua allunna all'interno dell'istituto comprensivo San Filippo. Decine e decine tra professori, istituzioni, sindacati e genitori hanno partecipato al sit-in organizzato dagli insegnanti. Assente la professorissa ferita, colpi di schiaffi e calci. Nessun segno di pentimento, però è giunta la scuola che ora chiede vicinanza per superare questo atto di inciviltà dietro il quale si cellano ben altri problemi tra scuola e società. Innanzitutto solidarietà, solidarietà alla collega ingiustamente aggredita. Solidarietà alla scuola, perché la scuola ha bisogno di un aiuto da tutta la comunità. Il sindaco Mastella lancia invece un appello alla protagonista del bruttissimo gesto. Se lei chiedesse scusa ad esempio all'insegnante, la cosa avrebbe un grande eco e sarebbe un richiamo ad una caratteristica che compendia due elementi. Quello della famiglia che accuore il bambino e la bambina e quella degli insegnanti che hanno accuore il bambino e la bambina dal punto di vista educativo. Dal modo come si compone questa avvertenza, avendo al centro la crescita educativa e scolastica dei bambini, ci stanno da un lato gli insegnanti, dall'altro i genitori. Recuperare con urgenza il rapporto scuola-famiglie, mi c'è chiesto la senatrice Leonardo. Ci fermiamo tutti a riflettere perché quello che è avvenuto è una cosa molto grave. Non è un esempio positivo che si dà ai propri figli, non è un esempio positivo che si dà alla società. La violenza non deve essere mai mai ricercata. Rieccoci e ci proiettiamo sulla prima del mattino nella sua edizione Caserta. Lo scontro sulla scuola in apertura, tensioni in maggioranza, comune al bivio. Marino prepara la nuova giunta, non ha avuto effetti il pressing del sindaco. L'assessore Corvino conferma le dimissioni. L'appello, gli ambientalisti insistono per il parco. Macrico verde volano di sviluppo. La sentenza, chiedo scusa, militare degli Stati Uniti d'America travolse ragazzo condannato a quattro anni e ancora i veleni di Aversa. Stadio ai privati, la gara spacca la maggioranza e l'opposizione. In taglio centrale, l'annuncio, le reazioni, la direttrice Maffei, visibili prezzi della mostra in restauro. Ma è polemica, terremotus chiusa, eredità di Amelio tradita. E poi il programma per le festività tra Reggio e Comune, patto di Natale, eventi coordinati per attrarre turisti e ancora la sanità e i costi. Superato il budget dei ricoveri, Clinica Sant'Anna chiusa un mese. La denuncia, la protesta dei pendolari di Mondragone e Falciano, topi in carrozza. I viaggiatori restano fuori. E poi il lavoro, le vertenze, Whirlpool e Jabil in crisi, operai tre giorni in sciopero. Andiamo ancora in taglio alto, dove trova spazio per concludere lo sport. Casertana, Castaldo in cura, la ribi alla regia di attacco. E poi la festa dello sport, parata di campioni per le stelle del CONI. Andiamo avanti con la prima del mattino, edizione Salerno. E allora, eccola qui, dopo essere brevemente rientrati in studio, le grandi opere, interventi di recupero per i palazzi della cultura, teatro verdi, scuole e asili nido. Città sostenibili, 31 milioni, fondi dalla regione a Salerno e Battipaglia, De Luca, ma aprite subito i cantieri. In taglio alto, il libro, Scotti, Gatto e Saraglic, amici poeti, incontro a tre, il concetto, Ramazzotti e il Palasele, la musica, canta l'amore. Di spalla, oggi la prima a Salerno, Sardina in piazza, con partigiani, migranti e operai. E poi le grandi opere ancora vengono affrontate nella prima del mattino, edizione Salerno. Porta Ovest, nodi autostrade, alle esplosioni in galleria e poi la scuola, indirizzo teatro al Sabatini Menna, così formeremo persone colte. Ancora, la politica, le nomine, lega, esposito, leader a Salerno, Tommasetti, stilerà il programma. Ed in taglio centrale, la giustizia, la proposta di Indinimeo, voglio dare il buon esempio. Pochi giudici al Tribunale di Vallo, il Presidente ANM, ci vado io. E poi l'evento, domani si accende il maxialbero, luci, tre vigili feriti da un ambulante, ora dateci il teaser. E poi ancora i dettagli, aggrediti in Villa Comunale da Univoriano, i sindacati chiedono più sicurezza in strada. La sentenza, Santa Teresa, condanna definitiva per gli stupratori. L'economia, best practice, sfida a colpi di idee e progetti, vince l'innovazione. E per concludere, in taglio basso c'è spazio anche per lo sport, con la salernitana. L'ex Romano Perticone, ringrazio Salerno, dovevo fare di più. Chine, mezzala, ultima chiamata, riventura. L'ambiente, le emergenze. Cava, amiantonella alla tengana, cittadini in rivolta nella piana. Andiamo avanti con la prima delle cronache, che vediamo insieme. Salerno Pulita, titolo al direttore Tommaso D'Angelo, infornata di assunzioni. La bagarre con il Comune finirà con la chiamata di 42 interinali e nuovi contratti full time. In taglio alto Eboli, troppe proroghe per la gestione dei rifiuti, interviene l'ANAC. E poi tornare al sud per Natale, col biglietto sospeso, l'idea del salernitano Stefano Maiolica. Ancora nella prima delle cronache verso le regionali, Lega Falcone sostituito da un napoletano in carico a Tomasetti. E poi Carlo Robiglio al premio Best Practice da Salerno, un messaggio importante al sistema nazionale delle imprese. Rocca Piemonte, Villa Silvia, amministratore nel mirino di Ignoti ed ancora Strianese, terra dei fuochi, Battipaia, danno di immagine. Su rifiuti un duro attacco al sindaco francese. Questa era la prima delle cronache. Noi adesso ci spostiamo sul nostro portale 8pagine.it per leggere insieme innanzitutto il titolo della notizia in apertura nella nostra home page. Allora, Sanità, Campania, stop al commissariamento, risultato storico. Andiamo all'interno, il governatore De Luca, grazie ai medici, dirigenti e sanitari di buona volontà, merito loro. Ed ancora nella home di 8pagine.it, terremoto scossa di 2.8 nella notte, paura in Campania, anche in altre province allarme per il fenomeno tellurico, avvertito distintamente nel capoluogo. Ancora la home del nostro sito internet. Ci spostiamo ad Eboli, dove si è verificato un drammatico episodio di cronaca. Litorania, ciclista, investito e ucciso da un'auto. La vittima aveva 49 anni. Il guidatore si è fermato per chiamare i soccorsi, ma è stato inutile. Nella sezione Avellino andiamo anche con una rapida navigazione provincia per provincia. In apertura, tragedia sfiorata all'alba. Auto vola giù nella Scarpata. È successo in via due Principati. Ed ancora, per quanto riguarda la sezione Avellino, andiamo a leggere un'altra notizia. Politica, Cipriano, da oggi sono un tesserato PD. Lavoro per l'Unità, insieme a Dema e 5 Stelle. Con De Luca Presidente, vinciamo le elezioni regionali. Direi di fare un salto nella sezione Salerno, nella sottocategoria dai comuni, perché c'è anche un'altra notizia. Lo stir non è a norma. Il sindaco lo deve chiudere subito. Battipaia, scontro sull'impianto rifiuti. Le criticità sottolineate dal sopralluogo dei pompieri. Una notizia che abbiamo visto, trova ampio risalto anche nei quotidiani. Oggi ne dico, la manuia. Andiamo ad approfondirlo con il servizio. Migliaia in piazza domani per urlare il proprio no ai rifiuti. A Battipaia, nel Salernitano, studenti, comitati e associazioni, tutti uniti nella battaglia, pronti a dire basta una mobilitazione popolare per opporsi al nuovo impianto di compostaggio nello Stir e spingere verso la bonifica degli impianti contaminati e delle discariche. Intanto continua lo scontro istituzionale. Il presidente della provincia, Michele Estrianese, fa sapere alla comunità battipaiese di essere al suo fianco. Dagli studi che abbiamo ulteriormente fatto, noi possiamo andare a vincolare delle aree, a vincolare degli insediamenti industriali, impiantistici e quant'altro, tramite una procedura di variante urbanistica. Quindi l'amministrazione comunale mi pare che abbia preso la strada giusta, cioè abbia capito che la strada è questa, perché anche la provincia, se deve imporre dei vincoli, li deve imporre tramite una variante al piano territoriale di coordinamento provinciale. Quindi con una variante al PUC si possono individuare delle aree dove si vincolano determinate destinazioni d'uso, si impediscono determinate destinazioni d'uso e noi siamo disponibili come provincia ad approvare queste variante al piano urbanistico locale. Rieccoci in studio, andiamo nella sezione Benevento di 8pagine.it dove in apertura c'è questa fotonotizia che rispetta gli insegnanti, rispetta i propri figli, parliamo ovviamente di ciò che abbiamo approfondito anche nel servizio di Alessandro Fallarino, ovvero ieri sera a Benevento il sit-in dopo l'aggressione della maestralina, Mastella chieda scusa. E poi ancora la sezione Benevento del nostro portale, a Telese e Termi il primo sequestro di botti, giovane denunciato, l'hanno operato i carabinieri della locale stazione. Andiamo rapidamente su Napoli per leggere l'apertura. Napoli corteo contro Cop 21 Med e De Luca e poi Napoli Genk in Belgio avvertono napoletani fanno imboscate. Ancora la prima della sezione Salerno del nostro sito internet per leggere insieme l'apertura. Abbiamo detto del dramma che si è consumato deboli, litoranea ciclista investito e ucciso da un'auto. E poi ancora Porta Ovest, brusca frenata di autostrade, niente esplosivo. Per concludere, Caserta, studentessa si addormenta sul treno, le rubano tutto. E poi notizia di cronaca da Aversa, si spoglie e si masturba davanti a ragazzina fuori da scuola. L'episodio raccontato dalla stessa vittima. La home di 8 pagine punto it, ma direi che siamo ai saluti. Allora non mi resta che augurarvi buon inizio di giornata e buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.